Ciao a tutti, vorremmo fare tanti auguri di buon Natale e soprattutto buon anno a tutti i bambini del reparto Oncologia Pediatrico e ovviamente anche pediatrie, tutti gli infermieri e i dottori dell'ospedale, anzi del poliambulatorio San Giovanni Paolo II a San Giovanni Rotondo. Tanti auguri, un bacione. Ciao bambini e tanti auguri, buon Natale a tutti i bimbi ricoverati al reparto Oncologia Pediatrica di Giovanni Paolo II a San Giovanni Rotondo. Vedete il mio corno? Vi piace? L'ho rubato a mia figlia. Vi faccio una piccola dedica per questo Natale e vi mando un bacio grandissimo. I'm so delightful and since we no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Un abbraccio grande. Ciao a tutti, io sono Stefano Di Battista, questo è un video messaggio perché non posso essere con voi visto il problema che abbiamo in questo momento ma vorrei così farvi un saluto e ringraziati. Ovviamente il messaggio è rivolto al poliambulatorio Giovanni Paolo II di San Giovanni Rotondo e mi riferisco appunto ai reparti di Oncologia Pediatrica e Pediatria e tutto il personale dello stesso poliambulatorio e di Casa Sollevo. Dunque grazie per quello che fate, noi vogliamo essere vicino a voi, vi regaliamo così due note di sassofono sperando che vi possa allietare e con l'auspicio di rivedervi presto personalmente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un saluto a tutti i bambini ricoverati nel reparto di Oncologia Pediatrica e Pediatria del poliambulatorio Giovanni Paolo II di San Giovanni Rotondo. Un grosso augurio da parte di tutta mia famiglia e un buon Natale a tutti gli operatori sanitari sia del poliambulatorio sia di Casa Sollevo della sofferenza. Ci diamo presto e bocca a Dupo. Ciao ragazzi. Buon Natale a tutto il poliambulatorio Giovanni Paolo II ai reparti di Oncologia Pediatrica e Pediatria e a tutti gli operatori sanitari. Grazie veramente di cuore e ai componenti dell'associazione Amici dei Bambini di Pesquici. Grazie veramente di cuore e buon Natale e che sia un anno migliore di questo passato. Un bacio. Eccoci qua. Perché siamo qui? Intanto diciamo chi siamo. Chi? Noi. Io e te. Io e te. Io e te. Io sono Andrea. Il ventrilo può di Tussichevales. Sì quello che ha fatto ridere i colli. Sì ma che ridere i colli dai. Non esageriamo. Allora che devo dire? Dobbiamo fare gli auguri. Di cosa? Di cosa? Gli auguri di cosa? Siamo Natale. Eh gli auguri di Natale. Ma che ne dobbiamo fare? A tutti i bambini guerrieri che in questo momento ci stanno guardando dagli ospedali. eh sì. Allora tanti auguri di buon Natale. E anche? Lo dici tu? Sì. Eh vai vai. Lo stavo dicendo. Eh vai vai. Tanti auguri di buon Natale. E dice anno nuovo. Oh oh. E ricordatevi. Noi siamo guerrieri. Oh oh. E qualcosa devo dire? E devi dire anche un grandissimo saluto a tutti gli abitanti di? Di cosa? Di Peschici. Di Peschici. Anche io lo voglio dire. vai. Tanti saluti a tutti gli abitanti di Peschici. A tutte le Peschici. Le Peschici. Sì. Vabbè. Lasciamo stare. Tanti auguri. Ciao. 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 Ciao a tutti. Sono Fabrizio Bosso e questi sono i miei auguri di un sereno Natale a tutti gli operatori sanitari e ai bambini dell'ospedale Giovanni Paolo II di San Giovanni Rotondo. Un caloroso abbraccio a tutti. Ciao.